bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e io sono la fanny oggi ragazzi siamo qua su clash royale è un po che non facevamo un cesto opening o mi sbaglio abbastanza abbastanza oggi raga dal baule del clan oggi ragazzi abbiamo da sbloccare due baulozzi quali bauli spiegagli quali sono magici così proprio uno nelle missioni e uno qua tronche baule nelle missioni ma allora la leggendaria c'è oggi non lo so sono sfigata la leggendaria ci deve essere dai lo sai che ci abbiamo il nostro il nostro come si dice brava rituale scaldare le dita facciamo contro gli ensen vai vai commentala tu sempre con gigante le due streghe porca miseria ti va bene che nell'aggiornamento che metteranno oggi hanno potenziato la strega esatto esatto giustamente noi lo stiamo registrando ieri per voi che oggi e quindi la strega no se non mi faccia mi faccia sconfondere che qua il problema è problematico allora bene così con se si confonde non vince esatto anche se non mi confondo non vinco però come si dice era giusto per giusto per andiamo con il caballero di là la strega dietro abbiamo un piccolo push iniziale moschino per lui ragazzi strega che va sul golem del ghiaccio ma quello non mi preoccupa più di tanto bene che va così perché fa il boia guarda la strega guarda la strega sulla destra ma quello non mi preoccupa ma quello non mi preoccupa esatto esatto guarda trunk fermato anche log rider e non abbiamo ancora usato al boia qua io non farei nulla lascerei ce l'abbiamo cruzato al giant alla dereccia al giant all'attacco con calma c'è un minuto e 43 ancora da giocare non avere fretta ma guarda io faccio così così gli mettiamo caballeros sul boia che va a farsi il boia il già potevo anche non giocarlo il caballeros non lo vado a colpire andiamo a far così andiamo a far così che la fireball va a tirare giù oh mio dio il moschettiere attenzione sciottato al moschettiere con la fireball al 10 siamo proprio oddio ti spazzano che infamone e va a non sulla torre centrale va bene non c'è problema guardalo qua 3 4 dai 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 bene così va bene va bene ha sbagliato sbagliato a pallafuocarti perché noi possiamo spingere di qua 5 6 e 7 con caballeros strega notturna attenzione un altro secondo push dall'altra parte ho notato ho notato che ci sono i caballeros oddio vanno tutti e due di là all'inseguimento porca porca hanno inseguito il golem fermo aia lo dico io aia va giù la tower va giù la tower impossibile perché non aveva senso difenderci abbiamo già perso la torre vai traga quella torre lì è a portata di fireball così via la torre qui ti sei contenta aspetta un momentino ok possiamo andare con il caballeros sopra il cannonau di sardegna e il boia invece decidi di tirare giù il nostro giant siamo uno pari giocata basta giocare le due streghe basta che te lo dice buono il mio decreto che cacchio dici c'hai le carte a livello 13.000 6 a 4.000 a meno male meno male notti così ragazzi diamo avanti così bene il caballeros sopra abbiamo ancora problemi con il boia sul giant da fare i video su youtube viene a 4.000 se ancora 4.000 il mio problema è molto diverso dal tuo cara io ho una carta che non è assolutamente da portare all'undici tu giochi col gigante dovresti arrivare a 9.200 con le carte che hai dai che andiamo dai che andiamo bene così ragazzi bene così attenzione vortex non è preoccupante stia spingendo stia spingendo vai che spingiamo vai che siano dentro vai che siano dentro bene così bene così non ridere che il tuo deck non ridere secondo la pia 230 c'è di occhio doveva avere proprio a farbo a livello 15 per perderla va bene così va bene tanto stiamo registrando vedo che salgono gli iscritti perché sanno che stiamo registrando beh abbiamo il primo baule magico apriremo quello delle missioni quello vado vai vai tutto bene piano via sette skip con 1320 di gold bene perché saran dobloni era un problema a due bombaroli questo lo diamo a mister watch che gli serve che tristezza livello 10 l'ho portato l'ho portato livello 10 perché hai soglia a buttar via probabilmente barbarozzi scelte che sono livello 9 ma dai ma dai sono più belli paulio maggio potrebbe arrivare la leggendaria potrebbe arrivare e non arriva la leggendaria almeno già e almeno la strega dai la strega la strega la strega pecca il pecca 15 pecca su 10 ragazzi come al solito primo c'è stop per il prodotto mi fa cagare mi fa cagare ma ragazzi intanto vi ricordo prima i regali giornalieri da aprire dai che mo trova leggendaria cento tre di gold 12 gold di sgherri due macchine volanti niente di buono niente di buono ragazzi comunque se vi sta piacendo il video mettete un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella ma lo faccio io e il dindondero dai che andiamo dai che andiamo e si scusa abbiamo per un altro paulo e facciamo un altro partito se io se io 169 esatto se io ora conduci la te il video già che siamo qua ho detto con una squadra che sei contro che cavolo c'è la peschina uia uia l'arancino di riso la peschina era il suo il suo coso minchia quanto fa oh grinder davvero non ci credo bene così bene così ragazzi bene così non lo so non lo so però secondo me quando le vinciamo non troviamo niente nei bauli magari perdendole non si sa mai deve essere sugoso bene così ragazzi strega gattivissima al 7 il giant se ne va e orca vacca i luridi i luridi ragazzi i luridi scelti sono brutti proviamo a spostarli di qua ma la vedo grey orco come la vedo grey proviamo con la strega notturna vediamo se ci aiuta tanto la torre è ancora full vita bene no no ci hanno salvati bene così bene così 2755 2682 la torre in basso andiamo di riuscire a portarsi a casa anche questa partita è importantissimo vincerla andiamo a fermare lo grinder andiamo un attimo a fermare lo grinder prima bene così bene così ragazzi bene così ok però siamo sotto lui gioca lo stregone e ci frega sia la strega che gli sgherri capito questa fretta da giocare e che c'ho fretta da giocare e che devo capire bene così la strega va a colpire bene così a cosa mi dai a me le lezioni di come si gioca dai che sempre l'elisir lo sappiamo tutti sotto e neanche lo sputtano proprio i ragazzi dicono non hanno capito come si gioca bene a clash non hanno capito andiamo così ragazzi via 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 come le faine dai 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 ragazzino le prime armi come facevo io che sputtano tutto io c'ho una tecnica io so quanto è l'elisir non è che la gioco a caso io porca miseria porca di quella porca ragazzi un sondaggio sotto il video dite se sputtano l'elisir ma pensate ma pensate dai che andiamo dai che andiamo ragazzi attenzione grandi problemi con la mia torre la perdiamo c'è completamente andata la torre a 30 secondi dalla fine confermo 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 la partita potrebbe essere persa no no è che c'è un deck di merda semplicemente quello allora si si come trovate il mio da una merda una merda di temi sotto com'è il mio da neanche perché c'è il gigante all'undici la strega a sette il deck è forte porca miseria si no si ha detto che è buono si 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 io invece scopo dai che andiamo lui scala aia lui scala io cosa devo fare tifoso che non sai neanche giocare vediamo se riusciamo a c***o assorata oh oh allora io sono già vai e tu al bauletto e tu al bauletto attenzione così attenzione così zitto che non ti voglio più guardare neanche in faccia mi fai schifo 1320 di gold aia come fa a vedermi come fa a vedermi due strattori di lisini che schifo 18 freccioline che schifo stai zitto che è la mia roba mia 40 barbari scelti che tristezza 42 scarichi che almeno questo le uso aaaah niente leggero 23 aria di rabattaria ma si sapeva e 5 pecca a 10 ma puoi portare il pecca a livello 4 dopo questi due bauli non ne frega niente ma si sa che in questo baule veramente una tristezza ragazzi porca di quella porca andiamo a donare una fornace già che ci siamo beh ragazzi direi che anche per oggi il chest opening può considerarsi finito qua noi vi ringraziamo tantissimo grazie per essere stati con noi e se vi piace il video un bel like noi ci vediamo presto ciao ciao